ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad un longin longin heritage conquest central power reserve questo è il nome completo di questo orologino qua che è uscito da poco sarà un mese un paio di mesi scarsi in realtà io un modello di questo orologio qua lo avevo avuto per le mani proprio ancora prima che uscisse al pubblico e solamente che non potevo fare la recensione la panoramica perché non essendo stato ancora presentato avrei infranto l'embargo quindi l'ho lasciato indietro l'ho lasciato da parte e ora mi ripropongo di portarlo sul canale e mostrarvelo a voi perché è un orologio molto particolare in pratica va a riprendere il modello del 1959 quel conquest con la riserva di carica centrale con i due dischi centrali che tanto abbiamo imparato ad apprezzare sui vari cataloghi e sui vari forum online un orologio che dire iconico è un po troppo forse però molto rappresentativo del marchio almeno per il fatto che è una complicazione che poco anche se la riserva di carica non è considerata una complicazione comunque è una feature che è abbastanza poco vista non è utilizzata molto ci sono diversi sistemi per indicare la riserva di carica la classica lancetta tipo lancetta della benzina per intenderci oppure ci sono anche dei quadratini dei tondi che scompaiono appaiono insomma ce ne sono diversi ma quello dei due dischi centrali che dischi che ruotano indipendentemente si vede poco in giro orologio che fa parte della famiglia conquest quella lanciata nel 54 la prima famiglia con un nome in longin perché fino a quel momento venivano indicati con delle semplici referenze poi dall'in poi 54 conquest 57 flagship 59 jamboree 60 jamboree e così via legend diver tutte le altre famiglie nomi di modelli anche se poi anche negli anni successivi molti orologi di longin non hanno presentato un nome vero e proprio sempre sempre la referenza si va avanti detto questo vi voglio ricordare anche il fatto che quest'anno si celebra infatti il settantesimo anniversario della famiglia conquest 54 2024 settantesimo anniversario e questo qua è un modello che va un pochino a celebrare questo anniversario ma durante l'anno ce ne saranno altri state in campana perché uscirà anche un modello di conquest particolare diciamo così di più non posso dirvi l'ho già visto e vedrete che farà la felicità di molti ora chiaramente l'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è parte ufficiale del canale mi mette a disposizione gli orologi che voglio e a voi offre un trattamento di favore con un tappeto rosso all'entrata a tal poprosito vi voglio ricordare che domenica 12 maggio 2024 ci sarà il quinto watch meeting cioè il raduno del canale ci incontreremo tutti domenica 12 maggio alle ore 15 alla gioielleria pasquale domenici di fronte alla gioielleria nella zona pedonale all'interno si può entrare provare gli orologi rubarli se è il caso e facciamo una specie di radunetto alle 15 vi aspetto tutti i numerosi chi può fare un salto lo faccia domenica di maggio sole brezza primaverile mare si può fare si può fare adesso vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpaticissimo cartier santos 39.8 mm di larghezza cassa così dice la casa quando in realtà io ne ho misurati circa 37 quadranti blu numeri romani insomma lo conoscete ho fatto una panoramica esaustiva nei giorni precedenti le settimane precedenti scorse meglio e quindi è questo qua il mio orologio mi piace se a voi non vi piace e ce ne faremo una ragione adesso giriamo la camera e diamo un'occhiatella a questo launching conquest heritage central power reserve cerchiamo di comprendere le proporzioni di questo orologio e per farlo diamo uno sguardo ai risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate diametro cassa 38 mm spessore 12.3 ingombro trasversale al polso 45.5 e interasse ansa da 19 mm l'unico dato fuori standard è il passo del centurino ma ormai longincia abituati a misure da 19 e 21 mm in luogo dei classici 18 20 o 22 poco male perché per lo meno visivamente si sposa alla perfezione con il resto dei risultati evidenziati tra cui fa specie il lag to lag contenuto ma soprattutto è sempre ben accetto diametro di 38 mm specie quando si tratta di orologi in stile classico come questo dico classico perché è evidente che l'aspetto dell'orologio va a ricalcare pedissequamente ciò che fu il suo antenato del 59 questi inteso come design generale mentre la cassa presenta alcune differenze si nota chiaramente che il predecessore presentava anse molto dritte e sottili che si distaccavano dalla cassa in maniera netta e repentina il power reserve odierno ci mostra invece una maggiore compattezza relativa grazie appunto a delle anse corte larghe oserei dire più proporzionati alla cassa in questione che è sicuramente meno filante di quella del predecessore cassa che di per sé non offre spunti particolarmente innovativi non gli sarebbe neppure richiesto una lunetta a pressione che fa della discrezione il proprio fulcro stilistico lucidata specchio e larga tanto quanto la cassa sottostante funge da contraltare al fondo dell'uavite che va a completare l'insieme strutturale un semplice sandwich d'acciaio che vede però alcuni punti nei quali si può ravvisare l'immancabile tocco di classe aggiuntivo mi riferisco a quelle sottili scanalature di separazione presenti sulle anse da notare che il profilo inferiore della lunetta va a curvarsi in quel punto proprio per accogliere a dovere l'ingombro dell'ansa stessa inoltre è presente un'evidente smussatura lucida che nonostante le anse corte riesce a dare un tono a quello che considero il punto maggiormente esposto di un orologio lucidatura che è presente su ogni superficie della cassa ad eccezione del lato carour laddove troviamo una spazzolatura verticale molto poco accentuata per nulla invasiva è considerabile al pari di una opacizzazione volta a differenziare le differenti superfici senza voler inficiare l'effetto classico dell'aspetto generale insomma una eccessiva satinatura in questo contesto sarebbe stata sicuramente fuori luogo anche la corona pressione appare lucida e ricalca in pieno lo stile di quelle corone anni 50 che equipaggiano i longin d'epoca un semplice cilindro zigrinato facilmente impugnabile e ben manovrabile quanto sopra sembrerebbe superfluo su di un orologio automatico non c'è bisogno di caricare l'orologio frequentemente a mano in realtà la utilizzerete più spesso di quanto crediate in quanto uno dei punti interessanti di questo orologio è la riserva di carica centrale e per metterla alla prova vi ritroverete più di una volta a caricare manualmente il meccanismo ma vediamo come funziona è composta da un anello esterno riportante le ore di riserva e un disco interno con un marker rettangolare bianco caricando l'orologio l'anello esterno ruota e il massimo di carica si ottiene quando il 64 raggiunge il marker da quel momento avremo 64 ore di riserva che verranno conteggiate a scalare il dato interessante è che da quel momento non sarà più l'anello esterno ruotare bensì il disco interno in pratica due elementi indipendenti che ruotano autonomamente vi sono un paio di considerazioni da fare la prima è che in fase di carica una volta che il 64 raggiunge il marker se si continua a caricare entrambi i dischi ruoteranno simultaneamente rimanendo fissi sul 64 ma cambiando entrambi posizione sul dial ergo avrete sempre una differente configurazione del quadrante la seconda considerazione nasce dalle 64 ore di riserva di carica l'orologio è dichiarato per 72 ore nominali ma essendo tali non è possibile garantirle per ogni esemplare potrà esistere un orologio che le supera così come uno che non le raggiunge dipende poi anche da altri fattori esterni come ad esempio la temperatura ambiente o l'usura nel tempo per questo motivo si considerano le 64 ore come limite in modo da essere certi di avere un margine di tolleranza per consentire di non ritrovarsi a zero con orologio fermo senza preavviso questo sistema di riserva di carica centrale viene ottenuto utilizzando il calibro l 896.5 realizzato da eta in esclusiva per longin 25 1200 alternanze orarie 21 rubini e spirale libera in silicio si tratta del primo della specie mi spiego meglio osservando le incisioni sulla platina ho scovato la dicitura a 31.211 denominazione base data da eta e ricercando nel rete non si ottengono risultati è chiaramente la primissima versione di questa configurazione e non è ancora stata decodificata dai database internazionali come si vede gli a31 sono i calibri solitamente dedicati a longin ad esempio a31.l 11 è il conosciuto l 888 incassato anche dallo spirit quindi questa versione da considerarsi finora inedita seppur sempre derivanti dall'antenato eta 28 92 in questo caso il tanto detestato fondello trasparente mi è stato d'aiuto ma torniamo al lato a e diamo uno sguardo al quadrante risulta chiaro che l'intero design gioca sulla concentricità degli elementi proprio partendo dai due dischi di riserva di carica troviamo infatti una ulteriore scanalatura periferica che ha uno scopo prettamente decorativo e che mira a riprendere due dischi centrali si viene così a realizzare il concetto di concentricità che poi è completato dal rio e dagli indici applicati in rilievo quest'ultimi riescono a restituirci un certo senso di simmetria nonostante o forse proprio grazie alla finestra data che è posizionata ad ore 12 questo è un segno distintivo di molti longines ed è direttamente replicato dal modello del 59 in quel caso però era presente anche la clessidra alata e forse forse finiva per sembrare tutto troppo ravvicinato logo scritta e data risultavano eccessivamente compressi nel modello odierno si è preferito obettere la clessidra per dare maggiore ariosità agli elementi molto particolare poi la silueta siringa delle sfere un design degno della storica famiglia conquest e palese celebrazione dello stile classico iniziato alla fine degli anni 40 tra l'altro pur essendo un orologio dall'aspetto formale non si è voluto rinunciare ad un minimo di resa al buio è infatti presente un piccolo quantitativo di super luminova sia sulle sfere che sui quattro dot ai punti cardinali sufficiente per riuscire a decifrare il quadrante anche in assenza di luce poco da dire poi sul cinturino un classico alligatore semilucido senza infamia e senza lode un po' troppo classico per i miei gusti benché di eccellente fattura si può anche giocare sulla sostituzione ma ricordiamoci che il passo del 19 mm limita la scelta nell'aftermarket occorre anche dire che su di un orologio di tale lignaggio il farsi realizzare un cinturino su misura in luogo di uno industriale sarebbe quantomeno suggerito ed indicato possiamo tornare a presa diretta per le considerazioni finali cosa dire di questo orologino che è un orologio bello cioè ricarica all'impieno lo spirito della famiglia conquest forme classiche aspetto elegante con questa complicazione aggiuntiva della riserva di carica al centro del quadrante e la finestra data ad ore 12 che è un pochino un quasi un classico della famiglia conquest anche il precedente 38 mm solo tempo aveva la finestra a la finestra ad ore 12 punti punti deboli non ce ne sono diciamo l'unica cosa che io avrei evitato è di dichiarare 72 ore di riserva di carica per poi farle partire da 64 la riserva di carica non è una di quelle peculiarità che mi può impedire di acquistare un orologio a me non mi interessa se ce n'è 80 72 64 42 se un orologio mi piace lo compro lo stesso non capisco questa corsa all'aumento della riserva di carica più che altro per farla mostrare come un valore aggiunto ma sì lo è fa piacere però se mi piace un orologio non mi interessa quanta riserva di carica diciamo la verità è proprio una delle ultime cose in questo caso io avrei messo avrei dichiarato 64 ore poi se sono di più meglio ancora ma le avrei dichiarate 64 fare partire la riserva di carica da 64 e così non ci si sbaglia sicuramente invece in questo caso sono 72 le ore però per sicurezza lo fanno partire da 64 la riserva va bene altri punti positivi chiaramente sono il quadrante nero io l'ho preso nero perché mi piace nero ma c'è anche quello color panna crema che forse ancora più leggibile di questo sì infatti la leggibilità di questo quadrante no c'è la leggibilità c'è in quello panna è ancora meglio secondo me perché c'è proprio veramente le sfere a contrasto indici applicati cassa lucida con una leggera satinatura laterale è veramente l'orologio classico per eccellenza con una riserva di carica centrale che lo rende particolare diciamo la verità il cinturino ecco bello di classe fatto bene perché ci mancherebbe altro in alligatore semilucido quasi opaco però me lo rende un po' vecchiotto potrei anche metterci qualcos'altro di più interessante sempre ricordandoci che sono 19 mm il passo anse e quindi bisogna stare un pochino attenti niente da ragazzi per me l'orologio è promosso non vedo punti negativi i prezzi li sapete sono tutti aumentati quindi inutile stare a disquisire se uno se lo può permettere lo compra se no uno è inutile che dice il prezzo è alto non lo voglio ci vogliono fregare gli orologi gustano ce ne sono anche da 100 da 50 euro compriamo quelli lì però è inutile andare contro quelli che fanno un prezzo più alto è qua lo vuoi comprare tiri fuori i soldi e lo compri non lo vuoi comprare perché ritieni che sia troppo caro lo lasci in vetrina tanto più che non siamo solamente noi pubblico italiano a fare a comprare gli orologi dei longin ci sono altri mercati nei quali 4.300 euro sono quasi niente quindi è inutile lamentarsi non contiamo niente boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto l'orologio il video il presentatore il contesto il microfono e la telecamera vi ricordo quindi gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love iscriviti al canale